Parto da Elduleo, il leone coloso di gelati Aldorramo. Mercoledì resta in famiglia. Alle 20.30 con Chiara e gli altri. Alle 21.30 i Robinson. Alle 22 De Niro. Mercoledì a partire dalle 20.30 su Italia 1. Super Cup Football, il nuovo calcio elettronico dove puoi giocare il vero calcio. Super Cup Football, dribbling, passaggi, colpi di tacco, contropiede. Super Cup Football, rimessa ai calci d'angolo automatici. Giocatori che si spostano in avanti e rientrano in difesa. Super Cup Football, il calcio elettronico dove la tua abilità ti darà la vittoria. Super Cup Football, un prodotto toni da giochi preziosi. Un Magic per me e uno per i pilota. In Magic Boy il binocolo di E-Man, in Magic Girl le bretelle e il ciondolo del Barbie Fun Club. Lo dirò anche il pilota. Da quando Magic è mensile succedono cose incredibili. Magic Boy, in Magic Girl, 80 pagine di giochi, fumetti e novità. Arrivano i Poppels frutti, tenere e furbacchioni i Poppels frutti. Diventano colcinelle, api, farfalle, Poppels. Ragazzi, Kinder vi regala quattro giochi magnetici. Sama, tris, scala, tela. Potete giocare dove volete. Subito uno, ogni due confezioni di Kinder Brioche, Kinder Colazione più Kinder Delice. Giochi magnetici. Regalo in vista. Sì, se oggi compri il Walkie Talkie Fisher-Price, c'è il binocolo in regalo. Walkie Talkie e binocolo Fisher-Price. Il divertimento non finisce mai. Un orologio che si carica con l'acqua. Incredibile, ma vero. È Acqua Watch con la mascotte di Italia 90. Il regalo per l'estate delle merende del mulino bianco. Bastano, 20 punti. E sulla tessera ne hai già tre in omaggio. Noi amiamo l'estate. Ci piacciono le spiagge dorate. Specialmente se con noi c'è Barbie Sun Magic. Ecco Barbie arriva, guida la sua jeep. Guarda Barbie al mare, con tanti amici va. Ed una ciocca col sole, poi cambia colore. Brava Barbie, siamo con te. Siamo con Barbie. Siamo con Barbie. Stenditi al sole con Barbie Sun Magic. E magia, la sua ciocca bionda diventa rosa. Roma non fa la stupida stasera. Dammi la mano a fagli di desiderio. Ciao, ciao, my baby. Cosa fa un gruppo di famosi cantanti italiani in giro per il mondo oltre a promuovere la nostra canzone? Scherta, gioca, si informa, incontra colleghi di prestigio, dorme, magari poco, esperimenta e si diverte. Da Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile, Francoforte, i flash di una tournée che ha riportato la canzone italiana all'estero. Sanremo in the World, seconda puntata del tacquino di viaggio di Ruggero Miti e del vostro amico Gianni Minà, domenica 28 maggio, alle ore 14.20, su Rai 1. e del vostro amico Gianni Minà, Acqua Minerale Naturale San Benedetto, per chi ha sete di vincere. Dal mondo il dorado, Calipopiz, il pizzico irresistibile. Cosa c'è di più preciso delle dita delle mani? Per questo Mocho è fatto a loro immagine. Mocho arriva preciso dappertutto e da oggi ha lo strizzatore regolato. Fidatevi, Mocho è un'idea di leda. Ehi, col tempo il fiocco si assottiglia. Dagli il cambio col fiocco di ricambio. Bianco Sarti, il mio drink vigoroso. Bianco Sarti, fate come me. Capitano Fintus, oggi noi Sarti ancora i capitani in cerca di avventure. Mamme, c'è solo bianco e buon merluzzo croccante nei bastoncini di Capitano Fintus. Buon pesce, tanto gusto, tutta forza. Che forza, che feeling, che sensazione. Cercare, trovare, il gusto che c'è in una Coca-Cola. Sensazione unica Quindi ha vinto il blues e la bella voce di Nicky, di Nicky. Va bene, però tu non ti devi preoccupare perché avete altri archi, altre frecce ai vostri archi. Ciao e grazie, ciao. Domenica in e domenica in sera Domenica dalle 17 in poi su Rai 1 Grazie a tutti. Grazie a tutti.